Carina, ho un problema. Deci assumo un lavoro. Non mi trattano bene, non voglio darmi un provento. Io non so che fare. Ma magari posso trovare un altro lavoro. Io penso che dovrei talponare all'ospedale e fare una domanda. Grazie, sei un modo aiuto. Ciao. Signora Mora, non mi tratta bene e tu non voglia darmi un aumento. Io mi licenzio. Ciao. Ciao Talitha, ho ricevuto la sua domanda. Allora, vorrei fare un colloquio con te domani. Ciao. Ciao, mi chiamo Talitha. Ciao, mi chiamo Cristina. Piacere. Piacere. Allora, vieni con me. È un bel giorno oggi. Sì, sì, mi piace molto. Allora, Talitha, quanti anni hai? Ho 26 anni. E quando sei laureata? Sono laureata in 2018. Dov'è? A Boston University. Ah, va bene. Eccellente. Allora, perché vuoi lavorare qua? Io voglio lavorare qua perché io adoro aiutare le persone. Il mio passione è essere un gocone. Quali sono i suoi requisiti? Ah, io ho ricevuto il Nobel Prize. Ah, è buono e importante curare le persone. Io adoro curare le persone. Sì, sì, anche me. Allora, quali sono i suoi debolezze? Le mie debolezze? Io vorrei dire che non ho le debolezze, ma... Sì, certo. Anche io lavoro molto. E io rimango all'ospedale a molte, molte ore. Ma qui tu devi lavorare molto, so. Va bene. Sì. Allora, i suoi talenti? I miei talenti? Io canto. Ah! Sì. E io suono molti instrumenti. Sì, sì, sì. Sono in una banda con gli altri dottori. Interessante. Sì. E questo è molto buono. Sì, e io faccio molte, molte, molte esperimenti. Sì, sì, ok. Qui si fa tutto questo pollo. Sì. Può parlare un'altra lingua? Sì, parlo cinque. Io parlo l'inglese, il portoghese, lo spagnolo, l'italiano e il francese. Mamma mia, quale è lo stipendio ideale per lei? Io penso cinque mila per mese. Va bene. Allora, quando vorrebbe cominciare qui? Domani, se è possibile. Domani? Domani. Ok, allora, si consenta di incontrarti. Ah, che mio. Ciao. Ciao.